Follettine e Follettine bentornati in questo nuovissimo vlog Ciao a tutti Follettine e Follettine bentornati in questo nuovissimo video Scusate Quella lì era a gusto tipo fragola Molto zuccherosa Proviamo questa adesso Menta Sempre molto zuccherosa Leccatevi i baffi da lontano Mi piace solo doverli aprire entrambi per fare una leccata e poi dopo posarli Wow C'è dentro un quintale di polverina Guardate Questo è il leccale a piedino Si ciuccia E' asplissimo No 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 E con lei spazzoliamo un po' i capelli Alla mia tesorina principessina Ecco il mio haters Una cosa vicina Che Che ve l'ha fatta fare a costa Madre buonanima Sei pronta per il prosciuttone Si I segreti I segreti di questa giornata E poi E poi come si dice L'amore non è bello se non è il litigarello No Con questa scritta qui Vedete Molto molto carini E qualà Com'è sto? No 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 No